Decine di migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza in serata a Bucharest e in altre città della Romania per protestare contro il decreto d'urgenze emanato ieri dal governo che depenalizza una serie di reati di corruzione, un provvedimento ritenuto analogamente al progetto di amnistia controproducente ai fini della lotta alla corruzione dilagante in Romania. Proteste che hanno portato alle dimissioni del ministro del commercio in aperta critica con le controversie misure di depenalizzazione di alcuni reati che favorirebbero in particolare molti politici. Un duro monito alla dirigenza romena è giunto oggi dalla Commissione europea che ha esortato Bucharest a non fare passi indietro nella lotta alla corruzione decisiva per l'ulteriore cammino del paese verso l'adesione alla zona Schengen.